Il caro energia è un tema indiscutibilmente pressante in questo inverno, lo è in maniera particolare per le amministrazioni pubbliche che sono alle prese con bollette esorbitanti che incidono su bilanci comunali o provinciali, è il caso ad esempio della provincia che oggi mette a un tavolo tanti interlocutori per affrontare il tema delle nuove frontiere del risparmio energetico, un convegno alla presenza di amministratori, ingegneri, geometri, docenti per capire quanto è stato fatto finora e quanto ancora si può realizzare. Sta emergendo una situazione di grande necessità di intervento sugli edifici pubblici, finalizzati questi interventi a efficientare gli edifici e anche la produzione di energie rinnovabili per abbattere gli enormi costi che adesso ci troviamo tutti ad affrontare a seguito dell'aumento del costo dell'energia che sta sottorendo risorse nei bilanci, risorse di parte corrente che poi hanno un impatto pesante sulla gestione degli altri servizi, dei servizi vari, per quel che riguarda i comuni soprattutto nella gestione anche del welfare che richiederebbe oggi maggiori risorse ma queste risorse purtroppo diminuiscono proprio a seguito dell'aumento considerevole di questi costi dell'energia. Parte integrante dell'organizzazione del convegno, la società Renergy SRL. Renergy è una società che è nata nel settore della riqualificazione energetica in virtù delle esigenze che esistono soprattutto in questa fase finale che stiamo vivendo perché con l'aumento delle bollette energetiche la necessità di riqualificare gli immobili sia noi esseri pubblici che privati aumenta in modo esponenziale. L'incontro di oggi è volto alla riqualificazione degli edifici pubblici sfruttando anche quelli che sono gli incentivi che lo Stato e gli enti mettono a disposizione della pubblica amministrazione. I fondi del PNRR che sono dei fondi in pratica che vanno ad incentivare gli interventi di riqualificazione energetica, vari interventi ma soprattutto quelli di riqualificazione energetica. Quindi sulla base di questa necessità è nata Renergy. L'incontro di oggi è stato organizzato dalla Renergy in collaborazione con la provincia per sensibilizzare quella che è la pubblica amministrazione su, a parte l'esigenza che hanno gli immobili di essere riqualificati, ma questa è una esigenza che già conoscono, ma soprattutto spiegargli in che modo possono essere riqualificati gli immobili e quali sono gli strumenti economici per poter far questo, per consentire alle amministrazioni di poter riqualificare i loro fabbricati per abbattere il costo delle bollette che sta diventando un costo molto elevato, difficilmente sostenibile se questa situazione di disagio si dovesse protrarre nel tempo. Territorio ancora indietro rispetto al tema dell'efficientamento energetico, ma non più indietro della media nazionale, anzi si scorgono già dei buoni esempi di pratiche virtuose. Abbiamo, l'ha ricordata anche la responsabile del GSE, anche delle situazioni di eccellenza, perché sia il Comune di Pesora che la provincia di Pesora hanno fatto interventi sugli edifici scolastici di eccellenza, quindi hanno realizzato edifici che sono a costo energetico quasi zero, quindi abbiamo già delle eccellenze sul territorio. L'importante è cercare di diffondere queste eccellenze, poi tutto il resto del territorio, e quindi accelerare questa corsa verso l'innovazione, quindi l'efficientamento degli edifici e la produzione di energia.